Ce l'ho il Gimpassio, sono a posto. Prima si vacciniamo, prima guardiamo tutto. Risolviamo questa problematica perché è insopportabile. Io ce l'ho, sono tranquillo, sto aspettando di fare la terza dose. Prima me la fanno e meglio sto. Tutto il resto sono carte che girano così tanto per girare. Non si poteva fare questo, non si poteva andare là. Comunque quest'anno abbiamo già raggiunto, mi sembra, un livello abbastanza buono. E spero che migliori e che tanta gente che non ha fatto il vaccino si decidano a farlo perché la salute prima di tutto. Il grande errore di questo governo è di non aver fatto obbligatorio la vaccinazione per tutta la popolazione. Perché così non saremmo arrivati a questo punto. Esatto, forse qualcuno avrebbe ritirato i remi in barca, avrebbe pensato di lavorare, di guadagnare, di vivere e di uscire da questa crisi. Ho dovuto farlo per questioni lavorative, avrei fatto volentieri a meno di fare il vaccino. Però sì, diciamo che hanno trovato questo sistema per renderlo in pratica obbligatorio. Quanto ne pensi di tutto questo, diciamo, combattere, lottare, manifestazioni, questo obbligo che sembra una coercizione impossibile da superare? Io non la vivo così e quindi, anzi, sono a favore del vaccino e l'ho fatto per quello e quindi non capisco la polemica. Cioè è solo voglia di fare polemica per quello che vedo io. Grazie. 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 Grazie.